come master senza poi la possibilità di ritorno, ormai è un trend che diventa semplice e più gravoso, noi abbiamo poi alcune eccellenze come c'è questa di nanoscienze a Lecce che per situazioni ancora totalmente incomprensibili viene addirittura soppressa. Io ritengo, signor Presidente, che il Governo deve necessariamente intervenire su una situazione del genere e che soprattutto non sia il preludio pure per altri spostamenti, tipo per esempio l'Istituto di Nanotecnologie, famosissimo del Professor Cingolani che è già andato via. Io ritengo che questa situazione vada attenzionata e che per il suo tramite il Governo è auspicabile che intervenga anche a chiarire, cioè possibilmente successivamente con un'informativa. Grazie. Grazie a lei, do quindi ritorno all'ordine del giorno della seduta di martedì 11 ottobre 2016, ore 10 svolgimento di interrogazioni, ore 14, seguito alla discussione, la proposta di legge, recante modifica il codice penale, il codice di procedura penale in materia di furto, di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energie, di servizi di trasporto e telecomunicazione e di altri servizi pubblici, seguito alla discussione e le mozioni concernenti iniziative per il rinnovo dei contratti dei compartiti vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le forze armate. La seduta è tolta. Grazie. 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 Grazie.